ben ragazzi sono mario 1 96 e punti in questissimo video ragazzi in noessimo video ragazzi vi riporto qui sul canale la serie del team mario 1 96 woman che appunto come già sapete è sbarcato nel world tour questo team fortissimo vi faccio vedere anche il roster comunque della mia squadra abbiamo è fortissimo raga veramente qualcosa di spettacolare noi siamo al primo anno di carriera con questo team guardate qui marta cavalli elisa longoborghini e isa balsamo chi era con sony silvia persico rachele barbieri l'edizia paternoster c'è c'è casparini c'è riana fidanza c'è martina fidanza c'è una trevisi e poi sono tantissime altre ragazze che che secondo me possiamo fare e già stiamo facendo questo qua è il terzo episodio se non avete visto i primi due a guardare io farei un piccolo recap di quello che abbiamo vinto in questi primi due episodi appunto quindi eccolo qua team mario 1 96 di woman aspettate un attimo squadra ok eccoci qui raga quindi questa qua è la nostra nostro roster i risultati sono questi comunque abbiamo vinto tante gare assolutamente e abbiamo vinto tantissime gare con isa balsamo tappe gare con rachele barbieri marta cavalli chiara con sony e siamo qui al 3 maggio 2022 voi subito un bel like iscrivete al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando e andiamo dentro con il video raga è un nuovo video nuova corsa abbiamo questa breve corsa tappe di 5 tappe appunto il giro di bretagna allora quindi andiamo con chiara con sony poi io come dicevo anche nell'altro video faccio così per farle correre un po' tutte secondo me ci sta la grande mettiamo qui le strategie ok e andiamo con avanti intanto abbiamo ora che abbiamo infortunato a riana fidanza comunque frattura della rotola quindi andiamo avanti con questa ah vabbè queste sono le tappe che stavamo facendo nell'altro video andiamo rachele barbieri raga prima vittoria di questo video e andiamo 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 quindi andiamo andiamo avanti dai dai e ora seconda tappa del giro di bretagna questa tappa pianeggiante che noi proviamo a vincere con chiara con sony vediamo un attimo vediamo 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 ecco la vittoria due vittorie per in questo video e prima vittoria per con sony vamos raga un video fantastico e stiamo solo all'inizio dai dai altra tappa andiamo andiamo quarti con con sony ha vinto la copponi seconda nosgard dai 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 quindi altra tappa la quarta vediamo sono tutte le piani già avanti e seconda chiara con sony prima nosgard e terza copponi arrivano anche quattordicesimi con a trevisi ci sta in classifica come siamo messi i secondi ok ci sta ci sta va bene comunque arriveranno nei prossimi episodio arriverà il gioitalia arriverà il tour arriverà la vuelta mondiale comunque se quindi seguitemi attivate la campanella per avere nessun video vi porterò questa cosa questa serie con con molta più frequenza assolutamente quindi abbiamo questo nuovo gp ecco strac se non erro la pronuncia vediamo un attimo quindi andiamo di elisa balsamo poi invece marchesini patuelli e del sarto andiamo dai elisa balsamo elisa balsamo signori e andiamo mamma mia quindi continuiamo la nostra la nostra stagione la nostra season ed eccoci qua raga ci siamo quinta e ultima tappa di questo tour del bretagno giro di bretagno praticamente e andiamo con andiamo in quinta posizione con la nostra chiara con sonni e andiamo appunto secondi con con sonni e ora proseguiamo con questo gp di eibar vediamo andiamo con marta cavalli e poi faccio correre un po' tutte e marta cavalli sesta vince da nevi a doma terzo posto per flotti macai e secondo santo stefan e andiamo eccoci qui raga con questa altra corsa spagnola in spagna corsa complicate con tre legge di campi della montagna l'ultimo è a pochi metri comunque l'altro c'è bretagno andiamo con elisa lungo borghini poi monticono barbieri fondri esternissi e marchesini e arriviamo in tredicesimi con elisa lungo borghini vince la magerus che si magerus poi seconda dalla bu e terza flotti macai andiamo avanti con questo video voi intanto lasciate un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti poi raga c'è questa gara francese il pianeggiante che noi proveremo a vincere con rachele barbieri la nostra velocista del team andiamo si mascherà rapida e arriviamo undicesimi appunto con barbieri risultato che ci potrebbe stare ma neanche tanto però dai nel prossimo continuiamo assolutamente e facciamo comunque ora andiamo con silvia persico classica a navarra questa dobbiamo puntarla a vincere un tico redaelli del sarto baroni e invece ok simazione rapida e andiamo raga vamos terza silvia persico vince i amber crack allora allora e ora mini corso a tappe breve corso a tappe è il caso mai eccoci qua allora qui andiamo con elisa lungo borghini silvia persico perché comunque sono tre tappe collinari e sono molto complicate comunque anche vediamo un po il sì sono qui qui dice anche tra l'altro dei favoriti annemic vanvloiden prima favorita per questa corsa a tappe allora allora facciamo così quindi simazione rapida e dai 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 e annemic non si fa attendere e vince prima tappa noi dove siamo il diciottesima e diciottesima elisa lungo borghini quindi poi i 29 si sono la silvia persico vabbè comunque dai e poi c'è il grand prix di un morbihan raga e altro giro altra corsa corsa francese il grand prix di un morbida qui direi direi di andare con con gasparrini la caspa poi mattia fidanza bertolini barbieri tre visi invece qui mettiamo diciamo così ok e andiamo dai 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 e attenzione raga attenzione seconda raga le barbieri terza la caspa e onora gasparrini andiamo ancora avanti finiamo queste tre tappe e poi chiudo il video chiudiamo il video non ci siamo proprio in questa corsa raga non 34esima silvia persico e 35esima lungo non ci siamo intanto ci sono i dossier ok questi qua sono i sono le nostre che che dobbiamo a cui dobbiamo rinnovare il contratto e poi vorrei prendere anche l'Oena Vibes nel team ok confermiamo anche il calendario vediamo un po' un attimo e attenzione raga seconda posizione per silvia persico raga io direi che il video per oggi può finire qua direi quindi dimmi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo ritorno di questa serie fantastica che mi sta piacendo tantissimo spero anche a voi lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi grazie a tutti